I siti americani scrivono di un post su Twitter di Becky Lynch in cui ironizza con bonarietà sul suo ranking nella classifica femminile annuale di Pro Wrestling Illustrated che l'ha piazzata in 29esima posizione. Io il messaggio non l'ho trovato, dunque è anche possibile che la lottatrice l'abbia cancellato. In una recente intervista Tommaso Ciampa ha smentito la leggenda metropolitana secondo la quale lui e altri top di NXT sperassero di non essere promossi a Raw o a SmackDown. Il wrestler ha spiegato che il senso di lealtà al roster dei giovani spesso esternato nelle interviste era dovuto all'unione dello spogliatoio e al desiderio comune di prolungare quell'esperienza per vedere sino a dove si fosse riusciti a rendere popolare il brand. Amici, oggi sul mio canale Twitch in diretta dalle 18 si prova Marvel Spider-Man 2, dalle 22.30 si gioca con WWE 2K23 e dalla 1.45 circa di notte ecco la live reaction di SmackDown. Tutto gratis ovviamente, trovate il link nella descrizione del video, vi aspettiamo! In America ci sono già le quote sui possibili vincitori dei Royal Rumble Match. Tra gli uomini, al primo posto, a pari merito, figurano The Rock e The Night a 3,5. Poi Günther a 5, Drew McIntyre, Sami Zayn e Jeyuso a 6 e Cody Rhodes a 7. Per le donne, un po' a sorpresa, in testa ci sono Naya Jax e Raquel Rodriguez, date a 4. Poi Becky Lynch, Yo Sky e Rhea Ripley a 5. A seguire Bianca Belair e Charlotte Flair a 6. La vittoria della nuova arrivata Jade Cargill per ora paga 13 volte la posta. Jerry Lawler ha ragguagliato i fan sul suo stato di salute decisamente peggiorato a seguito dell'infarto che a febbraio ha rischiato di strapparlo alla vita. L'ex wrestler e telecronista ha detto che sta facendo riabilitazione per tre volte a settimana e che la voce non gli è ancora tornata del tutto e per questo fatica a parlare e a volte anche a collegare il cervello per esprimersi come vorrebbe.